Perché? Quelle poche volte che ci incontravamo mi diceva, certo tu mi hai affibbiato un personaggio quello di Fabrice, io attraverso la strada e mi dico, ah Fabrice è rifatta la carta identità sta peggiorata, ma Fabrice non ti metti nei profili, è un continuo, dall'88 andiamo avanti così, io dico no, allora che ho detto Fabio, io ti ringrazio perché hai fatto una bellissima interpretazione con Paesco, però mi dispiace per tutto quello che è successo, lui mi ha detto, ah no, ma guarda che è un piacere alla fine, perché divento immortale, sono diventato immortale, allora gli ho detto, guarda poi ci incontreremo che ti devo parlare, allora ho voluto veramente scrivergli un bel ruolo, quasi per risarcirti e devo dire che il ruolo è fantastico e lui l'ha svolto nel migliore dei modi, la serie è veramente una buona serie, ma credo che dalla quinta in poi, sesta in poi improvvisamente ha una grande sterzata e diventa veramente qualcosa di diverso, grazie anche alla sua interpretazione e a tutto quello che succede tra me e lui, perché le cose non è che vanno tanto tanto bene tra me e lui nella cosa, perché inizia la vendetta di Fabio e sarà una tragedia per me, sembra un po' uno squilibrato quando entra in scena, ma poi piano piano diventa ancora più squilibrato e arriveremo a dei momenti anche drammatici, insieme con Valerio abbiamo avuto girare quelle scene, un po' la Fritz Lang, il bianco e nero e quelle scene là, dove avviene una cosa che lui fa nei miei confronti molto grave, è veramente di grande qualità e recitativa e anche fotografica, basta ho detto tutto, ti ringrazio, ti voglio bene e grazie per essere che è stato con lui. Grazie, ha già detto riguardo il personaggio e non aggiungo altro, io però voglio dire che escono grato, profondamente grato a Carlo Verdone perché per questo diciamo anche rilancio artistico, è perché lui è umanamente una bellissima persona, professionalmente inutile che aggiungo altro, se non un suggerimento che potrebbe essere anche un'idea, se qualora i sceneggiatori non l'avessero già avuta, ma un'ennesima serie, lui potrebbe essere un ottimo allenatore, per esempio, della Roma, perché ha questa capacità di motivare la sua troupe, i suoi attori e ottenere da loro veramente il meglio, sempre.